bella a tutti i ragazzi bentornati in questo nuovo video qui che vi parla diavolo 16 dei pro gamers oggi stiamo su un video cioè voglio cominciare una nuova serie di clash of clans su clash sul mio clash of clans ecco in questa serie allora adesso ci sono solo io poi dopo cominceranno forse a entrare anche dei miei amici tipo vediamo tipo questo l'ultimo davi vedete questo qui e davi dennis 23 che è mio amico sempre anche lui che io che su questo computer lo so canto sul stack quindi ho due anni accanto sia sul suo computer che sul mio scusate ragazzi ma mi sia disconnesso non capisco ragazzi perché si disconnete da solo comunque vabbè allora io ho il municipio al set farò molto breve sto video perchè poi voglio trovare un altro momento per registrare sto ipodino eeeh ho il 1.7 sto facendo il drygal 2 come vedete qui faccio vedere meglio eeeh in war cioè siamo in war e questo qua il giorno dei preparativi poi forse in qualche video ci sarà pure il mio cugino che si chiama luca che nel clan però non è ancora intanto vediamo se qualcuno ha salutato youtube o nessuno vabbè perchè prima me lo avevo detto faccio un video su c'è avrete salutato youtube così vediamo però vabbè ne sono salutato eeeh sono abbastanza forte cioè per il municipio che ho non sono una schifezza sono anche che sono abbastanza fortino c'è secondo me faccio di buoni attacchi guardate qui ma niente ce l'ha con me ma niente ce l'ha con me ce l'ha con me ragazzi non c'è un fottuto ipod di merda c'è dato benissimo non si sa perchè non c'è andava prima eh comunque guardate i miei attacchi strani posto qui da 20.000 che ho fatto malissimo vedete che sono anche buoni vedete questo qui è stato un certo un cittadino che c'è fatto di 30 comunque ragazzi faccio di buoni attacchi domani farò un video in war farò vedere anche i miei attacchi attacco con daghi ragazzi se sapete perchè strascio automaticamente così fiero non lo so, ditemelo perchè io non lo so sinceramente dopo provo a registrare con qualcos'altro perchè adesso uso un'applicazione che si chiama reflector ehm ehm e niente io fermo quel video perchè ho paura che dopo ricrasci perchè prima ho fatto già altri tre video e crash sempre non capisco il perchè ehm quindi ragazzi non so che dirvi ditemi se sapete perchè crash mi raccomando mettete un mi piace commentate condividete e qui da Diablo16 TheProGamers ah mi raccomando vi saluto anche mi e anche TheProGamers Nico che adesso ha qualche problema col computer ma tra poco ricomincerà a fare video anche lui ehm qui da Diablo16 TheProGamers è tutto quindi non ho niente altro da dire bella ragazzi ok ok